Buongiorno, Paolo Trancassini, parlamentare di Fratelli d'Italia, ai nostri microfoni di Ok Italia Parliamo. Nei Fratelli d'Italia che in questi giorni sta presentando vari emendamenti per il decreto Cura Italia, Trancassini ci dice che serve tempestività, tempestività nelle risposte tanto per le famiglie quanto per le imprese. Grave rischio è che le risposte, se non si è veloci, quando arriveranno non troveranno più le imprese ad accoglierle. Sentiamo il contributo di Trancassini. Come Fratelli d'Italia stiamo predisponendo a una serie di emendamenti finalizzati a rendere un pochino più concreto e soprattutto efficace il decreto Cura Italia. C'è bisogno di liquidità, c'è bisogno di un aiuto concreto e diretto alle imprese e anche a tutti i lavoratori che hanno perso il posto del lavoro. Ma quello che secondo noi poi più di tutti serve, serve tempestività. Tutto quello che oggi si mette sul piatto deve arrivare immediatamente alle imprese e alle famiglie, perché altrimenti si rischia che le risposte quando arriveranno, anche se non saranno all'altezza come quelle di questo Cura Italia, non troveranno più le imprese vive. Su questo stiamo lavorando con aiuti concreti alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie, cercando di spaziare su tutti quelli che sono i settori in crisi, praticamente tutti quelli della nostra economia. Speriamo che il Governo ci ascolti, noi stiamo cercando in tutti i modi di essere propositivi, continueremo a farlo nell'interesse dell'Italia. Ringrazio Paolo Trancassini per il suo contributo alla rubrica di Ok Italia Parliamone. Appuntamento, a presto!